Noi siamo concentrati sulla creazione di luoghi, quindi non semplice negozio ma luogo un pochino più a tutto tondo. Come sapete noi abbiamo location nei centri cittadini, normalmente palazzi storici, normalmente li ristrutturiamo con l'aiuto di grandi designer, retailer designer e abbiamo l'abitudine di fare ciascun piano un architetto. All'interno naturalmente facciamo questo perché naturalmente vogliamo attrarre brand di un certo tipo, lusso, lusso accessibile, comunque brand anche innovativi eccetera e che hanno bisogno di scatole di questo tipo.